La Giunta ha fortemente voluto insieme alla Camera di Commercio la realizzazione di questa prima edizione SMAO Marche e il fatto che SMAO abbia voluto realizzare un'edizione proprio nella nostra regione credo che sia un bellissimo riconoscimento non solo di come la nostra regione abbia saputo rispondere con successo alle sfide dell'Opera Innovation ma anche di come la Giunta regionale abbia profuso un grandissimo impegno in questa direzione soprattutto negli ultimi anni.